non so se arriva l'estate a una mena che che magari si ha sentito negli anni precedenti no quest'anno arrivo con una proposta abbastanza diversa a livello sonoro però che mi rappresenta 100% diciamo che questa è la musica che io sento è la musica che praticamente si conosce in Spagna di me e che diciamo è un altro mood una nuova veste esatto una nuova veste che non avevamo mai fatto vedere fatto sentire in italia però è molto mia ed era io lo sentivo cioè per me era un peccato non far vedere o non far sentire quel lato musicalmente di me mai quindi avevo sì sentivo questa necessità questo bisogno di di essere anche sincera musicalmente e far ascoltare alle persone la musica che sento da due anni da due o tre anni fa adesso che in realtà fa parte di tutte le mie referenze dalla piccola però non mi piacciono i pregiudizi di questi di taggare tutte le cose fai una cosa non puoi fare l'altra almeno non lo sento così quando faccio uscire musica non so in Spagna il mio album magari molto variato fare sempre lo stesso mi annoio moltissimo e questo diciamo che in generale è un lato molto onesto molto sincero di me musicalmente parlando che in italia non si conosceva e che speravo di far conoscere presto quindi arriviamo con con cinema spento che alla fine della musica che io ascolto sono le canzoni che io ho nella mia playlist sono gli artisti tipo d'Argen che ascolto sempre e la musica con cui connetto davvero e già sta molto facile molto molto rapido tutto molto veloce e molto organico molto organico questo mi piace questo mi mi rende contenta no perché quando le cose succedono così perché l'altra persona vuole collaborare vuole collaborare perché perché gli è piaciuto il brano perché gli piace la proposta perché gli piace il progetto lo fa tutto molto più reale no e a lui gli abbiamo fatto sentire la canzone non lo so tipo una domenica un lunedì mercoledì giovedì aveva già registrato aveva già scritto la sua parte due giorni dopo in quel weekend stava filmando la sua parte del video qua a milano mentre io lavoravo a madri cioè è stato tutto fatto in una settimana e quello dice molto di un artista che quando dice lo faccio poi lo fa e lo fa subito perché ci crede esatto quindi è bello è bello e allora il videoclip guarda che uno dei miei video preferito preferiti perché è una storia molto visualmente molto semplice è un video molto semplice ma è un video molto effettivo a livello estetico mi piace molto il colore mi piace molto sì mi piace molto l'estetica come è stato filmato mi piace quel mood malinconico che trasmette quel mood romantico malinconico doliente un poco doliente che trasmette e non lo so a volte a volte non c'è bisogno di fare di fare tanto no di fare un video costosissimo con milla cose a volte una una cosa un po più semplicina ti può arrivare al cuore e quello mi succede con questo video a me vanno molto della mano no perché quando tu sali sul palco e canti una canzone devi anche raccontare la canzone quindi ha un lato molto interpretativo molto recitato sono due cose che faccio da piccola cantare e recitare ogni due o tre anni che non recito mi mi arriva di nuovo la voglia di farlo mi non lo so c'è qualcosa dentro del mio stomaco dentro di me che mi che si sveglia e vuole rifarlo di nuovo quindi sempre che ho l'opportunità di alternare tutte e due cose per tempi per calendario e per tutto cerco di farlo perché perché connetto un'altra parte di me che si sente molto molto bambina e che sa e che gioca con i personaggi e quello mi mi fa mi diverte molto diciamo no mi sembra super positiva meno small è arrivato il momento sì no no sì e mi sembra mi sembra molto positiva mi sembra che che tra tutte facciamo il panorama molto più ricco no perché ci voleva un punto di vista diverso no e raccontato dalle donne che raccontiamo le cose in un altro modo in un altro mood no e ogni una di noi ha la sua personalità quindi quello fa che il panorama sia molto più molto più interessante molto più ricco e mi sembrava molto necessario sinceramente ognuna con la con la sua proposta penso che che spero che continua così che sempre siamo siamo di più e soprattutto supportarci tra di noi penso che è la cosa più importante no soprattutto quando in questi anni indietro ci è stato abbastanza più difficile penso che il momento di supportarci tra di noi c'è madame analisa angelina manguello di che ne so francesca michelin emma amoroso tante 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 talentuosissime che che spaccano e che se lo merita se lo meritano tantissimo da anni però seguito praticamente tutto sì l'ho seguito lo seguo sempre lo seguo da quando ero ben adolescente quindi sì sì mi piace è tipo una tradizione familiare che c'è la casa mia tornereste a Sanremo sin duda sì assolutamente sì diciamo che sì tutto ciò che arriva prossimamente in italia viene un po in questa chiave più matura sì tanti ovvio in questo momento stiamo lavorando nel tour o in diversi concerti che faremo in latino america questo dicembre ci esibiamo e si diamo ci esibiamo per la prima volta a buenos aires in argentina l'anno scorso abbiamo fatto in mexico city nel messico finiamo il tour nel within center a madrid è un benio molto bello molto figo molto grande molto importante che mi davvero mi rende molto molto felice non lo so abbiamo fatto anche questo weekend un evento incredibile al bernabéu che uno stadio del stadio del real madrid sarebbe bellissimo poter farlo qualche qualche momento con con il nostro tour con il nostro tour però adesso quello che mi mi motiva di più è portare la mia proposta scenica che abbiamo fatto in spagna in questi ultimi anni portarla in italia e soprattutto anche in latino america che è dove stiamo viaggiando ultimamente di più moltissimo wow una impegnata sicuro impegnativa però bella sicuro che bella in italia ci rivedremo in un paio di date stive promozionali con la radio che sempre me lo vado tantissimo cioè per me è una vacanza vieni a lavorare tra virgolette ma no in realtà me lo prendo come una vacanza vai sempre a posti bellissimi ti rincontri con dei amici che non vedi da un sacco di tempo fa è bello canti una o due canzoni e il pubblico è sempre una meraviglia quindi è una vacanza diciamo no e poi quello continuiamo col tour fino a dicembre viaggiamo molto a latino america avanti indietro avanti indietro anche qua in italia sto scrivendo per l'inverno l'autunno inverno italiano scrivendo per il terzo album spagnolo e c'è qualche progetto invernale nell'aria e quindi vediamo se vi posso raccontare presto spero di sì magari spero di sì magari